La ricerca di relazioni tra persone Oggetti e opere d'arte E ciò che accomuna Alessi con Massimo Minini Due realtà che favoriscono la nascita di sculture E oggetti di design a funzione estetica Noi non vendiamo prodotti Piuttosto mettiamo in relazione il compratore con il prodotto Il collezionista con l'opera A questo punto bere un caffè che esce dalla conica di Aldorossi O dalla caffetiera di Sapper Oppure guardare una scultura Sono azioni che presentano tratti comuni Il caffè di Sapper o di Aldorossi Non ha solo l'aroma tipico Ma un quid in più Che lo lega alla ricerca, al design, alle intenzioni Un diverso e maggiore contenuto estetico Prodotto dell'impegno Che un'azienda o una galleria Aggiungono alle loro imprese Con il bagaglio di cent'anni di solitudine Ma spesi bene